Nel video precedente ragazzi ci eravamo lasciati che avevamo fatto assaggiare il riso col pollo in Villa Elitz Per la prima volta avevamo cucinato ai Elitz il riso col pollo e avevamo fatto assaggiare una strepitosa pietanza Ma oggi signori siamo qua per fare una challenge completamente diversa perché useremo il riso col pollo come oggetto di sfida E due squadre si contenderanno il trofeo di mangiatori di riso col pollo Detto questo andiamo delle squadre let's go Ragazzi ci siamo è arrivato il momento È arrivato il momento di capire chi è il mangiatore di riso col pollo in Villa Elitz Ecco qua i partiti Affamati affamati Signori quest'oggi non ci si gioca ben poco Perché i perdenti la squadra perdente subirà una penitenza Che vi dirò dopo Non ce n'hai detto prima Non ce n'hai detto Quindi o accettate adesso o mai più Senza sapere la penitenza Se non accettate il riso col pollo non lo sfiorrete Non potrete mangiare il riso col pollo Se invece lo accettate potrete mangiare il riso col pollo e dopo saprete la penitenza Accettiamo Pensateci un secondo e poi dopo fatemi sapere Ma c'è la bresala in frigo? Ma quale potrebbe essere? No mai la penitenza Cioè voglio dire No non sa può essere di così grave Allora accettate? Accettiamo Allora accettate? Accettiamo Facciamo entrare il riso col pollo Ecco qua ragazzi Questo è la quantità di riso che dovrete mangiare La verità è che avrete 10 minuti di tempo E dovrete cercare di mangiare i più piatti possibili Ovviamente non mangerete il riso solo col riso Ma mangerete il riso col pollo signori E' stato gentilmente offerto dal nostro chef Nello scorso episodio avevamo mostrato come si fa il riso col pollo Come si prepara L'avevi preparato Quest'oggi invece ci richiamo la ciale Siete quanti a mangiare o no? Siete quanti a mangiare o no? Siete quanti a mangiare o no? Dai! E allora prendiamo i piatti signori E iniziamo le danze Piatti? Io sono Momo e questo è il mio team Oggi mangeremo tutto Ok ragazzi Non abbiamo il team dei vincitori Siamo in mangia tutto Ok? Non abbiamo fatto colazione per l'occasione Ragazzi ci mangeremo anche i piatti se necessario Dai che andiamo! Noo Momo! Benissimo signori Stiamo per iniziare I partecipanti li avete conosciuti Sono belli carichi Adesso li ho assistito Qui sta preparando il primissimo piatto Che dovrà essere mangiato alla velocità della luce Perché ricordo sarà una staffetta di riso col pollo E la squadra perdente subirà la competenza Quindi prepariamo il primissimo piatto E poi li arraffica con i piatti a seguire Dieci minuti di tempo signori I piatti possibili E si parte Tra 3 2 1 Via! Adesso 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 Sono partiti fortissimi Pure le ossa se necessario Vai così Azzanna Azzanna Adesso Sono partiti veramente forti Momo è partito forte Mamma mia Si sta mangiando questo Tutto il pollo Via Attenzione La partita di Momo Eh Ho fatto signore con le mani Magari Fagli pure Che lavi Tocco Mamma mia Mamma mia Momo Sembra sapere Che quello che sta facendo Incredibile ragazzi Sembra sapere quello che sta facendo È veramente incredibile ragazzi Signori Quello che sta succedendo Qui Nella Villa Elite Con le mani E con le mani E con le mani E con il pollo E attenzione Sembra in vantaggio Henry È incredibile Sempre in vantaggio Henry Momo è partito forte signori Ma sta calando Vai 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 È incredibile È incredibile È incredibile È incredibile Giudice Giudice Possiamo convalidare questo piatto È incredibile Finito È finito In cima In cima Di Fus Game Scusa Mamma mia Mamma mia Come è partito Dari Come è partito forte Momo a rilento Momo a rilento Ragazzi Aspettato Momo a rilento Ragazzi Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. Non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente. attenzione Gliabri 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 non tocca a lei la lady che ha voluto con la forchetta ma dove vai dove vai con la forchetta Enrico che cerca di frustrare la sua compagna ragazzi guardate Enrico mi vuoi gustarselo ma non è stasera il cameriere e il tovagliolo grazie bravo a noi non ci serve la forchetta non ci serve puoi passare al quarto piatto manca puttissimo vieni 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 guarda il piatto che è piatto ma Enrico una pietà guarda andalo mamma mia e anche lei è finito anche la sua compagna è finito e quindi potrebbe essere un pareggio finito il primo giro per entrambe le squadre ragazzi e si accingono a mangiare il quarto piatto di questa sfida non sta mangiando dimostra chi sei dimostra da dove sei venuto da dove sei venuto da dove sei venuto se io muoia non farmi distrarre mamma mangia piccante 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 mi presto coglioni eccolo 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 il piccante potrebbe aiutare eh si perchè stimola le terminazioni nervose yeeeh del mezzo dei nervosi l'ho studiato a scuola si forza forza e allora e allora dai il piatto signori quinto piatto per il chierino ci vuole un po' di tipo qua pure ma le persone lo sanno lo sapranno già qual'è la penitenza che è il titolo ma voi non lo sapete qual'è la penitenza quindi mi raccomando ragazzi non fate questo errore non sottovalutate la penitenza vai 3 Uma single veramente grazie ci vinciamo nel concluso Viene! Acqua in faccia ragazzi! Acqua in faccia si via! Acqua in faccia e via! Oh oh oh! Oh no! Ho sceso! Ho sceso! Ha vomitato! Ha vomitato! Dai! Dai! No ma io non ci credo! Oh no! Ma io non ci credo! No ragazzi! Non è finita! La squadra di Momo è aperta! Colpo di scena incredibile! C'ha messo qualcosa a Isaac! No 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 ragazzi! Forse ragazzi fare una gara di cibo mangiando piccante non è la mia cosa! Soprattutto se la fa Isaac! Io ragazzi ero convinto veramente che la vincessero loro perché... Ma anch'io però... E quindi... La penitenza signori! Ragazzi! In teoria doveva essere sorteggiato uno dei concorrenti perdenti della squadra! Ma in pratica! Siccome il peggiore della vostra squadra è stato una persona sola che mi ha fatto condannare non ci entra a fare! Purtroppo... Dovrei subire tu! La penitenza! E quindi... A mal in cuore Momo! La penitenza sarà... Questa! No! 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 Vieni! 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 Mi dispiace! Signori! Hai fatto perdere la tua squadra! Ti sei condannato! Questa è la Villa Elizza! Queste sono le penitenze! E poi dite che su YouTube facciamo le cose in maniera fake! Vieni! 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 Ok Momo! Mi dispiace! Ma che la tua penitenza sia fatta! E allora signori! La nostra pencola pronta! Sparta è un pezzo! Wow! No! 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 Vieni! Prima che apriti! No! No! Sì! Che sa qualcosa… Che nadie dime! Cheeeeees! Ora è il vincitore! Prego! Divertiti dai ragazzi! Il lavoro qui è finito! Non l'ho mai fatto! Ah! Sto facendo veramente! Troppo bello Citta, è un assoddisfazione! è come tosare le pegore a me l'onore poi si sta scaricando e mi pare così di mano comunque ragazzi se volete vedere il taglio il risultato finale andate a seguirmi sul mio posto di video in instagram che uscirà una bellissima foto di Momo completamente no così no così però mi fai male infatti così ne va fatto ragazzi ragazzi ci vediamo al prossimo video bella bella ciao